Ciao, sono la dottoressa Elena e oggi parliamo degli oli essenziali. Gli oli essenziali sono delle sostanze molto pregiate, presenti nelle piante aromatiche, conosciute fin dall'antichità per le loro proprietà terapeutiche. Gli oli essenziali possono essere utilizzati per inalazione, possono essere utilizzati per via epidermica o possono essere anche utilizzati per via orale. Però vengono utilizzati non puri, perché sarebbero tossici ad alti dosaggi, perché entrano direttamente nel circolo sanguigno essendo molto lipofili. Gli oli essenziali hanno diverse proprietà e un'efficacia terapeutica molto elevata. A seconda del tipo di olio essenziale utilizzato può avere un effetto antibiotico, può avere un effetto antibatterico, antimicotico, antinfiammatorio, lenitivo, carminativo, digestivo, può curare le affezioni dell'apparato respiratorio, oppure ci sono anche quelli che hanno un effetto tonico o rilassante e tante altre capacità terapeutiche. Gli oli essenziali non vanno mai utilizzati puri, perché a dosi non tanto alte possono anche essere tossici. Oppure possono scatenare delle reazioni allergiche. Quindi per inalazione vengono diluiti con acqua, per via epidermica vengono diluiti con oli o creme. Invece per via orale è bene mettere massimo due o tre gocce di olio essenziale su un cucchiaino di miele. Molte persone si stupiscono del prezzo degli oli essenziali perché è molto elevato e questo è dovuto al suo processo di estrazione, perché se non si vogliono utilizzare dei solventi chimici tossici e si vuole adoperare un metodo naturale come l'estrazione in corrente di vapore, questo processo richiede moltissimo tempo. Per noi gli oli essenziali sono una grandissima risorsa, ma prima di tutto vi dico di stare attenti alle allergie e di affidarvi a persone che li conoscono molto bene.